Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo unissimo video, io sono Edoardo Gori qui siamo su, insomma, il vlog non al mare perché, insomma, questo non è il mio mare però siamo andati un po' in gita al camaiore, così, con un amico Nicola Costa che anche lui ha un canale di YouTube che si chiama Gunster30 se che ragazzi, noi stiamo scendendo lungo un ponte, praticamente, ovviamente, sul mare, letteralmente sopra il mare assieme a quella di Viareggio però io sinceramente preferisco questo comunque, oggi, che voglio vedere, uscirà questo video, insomma, verso settembre perché oggi è d'agosto e poi praticamente, ragazzi, guardate un po' che figata comunque, allora uscirà anche lo speciale 10 iscritti sempre a settembre, anche se si è fatto ad agosto ovviamente facciamo degli scioglilingua uscirà per primo questo video, settembre, il primo video uscirà della stazione 2015 con Nicola, Gunster30 e allora ragazzi, cominci a vedere un po' la zona poi dobbiamo incontrare la mia nonna di mamma qua si va a causare cioè ragazzi ehi, fratello non mi saluti no non fa lo stesso, non fa lo stesso, dai stai nel video? mi denuncio in chi mi babbo è un corno invece con stracciatella e crema la mutella e crema allora abbiamo appena preso una stracciatella e crema una crema e una crema califia non so che cosa sia, però vabbè è una crema strana buono buono ma che stai facendo? il video? il video mentre mangiate il gelato? eh eh buono Siamo qui, abbiamo finitiggiato con il gangster. Mi chiami Nico? No, è il più bello gangster. No, fa schifo, infatti non so nemmeno come l'ho inventato io. Vabbè, questo insomma è un'acqua sporla. Cioè gli antibiotici, però di schifezza ecco insomma. Quello lì è un ponte. Questo qui è il panorano del lino. E ci vediamo tra poco ragazzi. Allora ragazzi noi stiamo andando da questa amica da mia mamma con gangster. Ciao. Allora a settembre prenderò l'Xbox o la PS4 sto ancora decidendo. Vabbò non rompemi più le scatole. Allora. E abbiamo deciso, avete presente tipo i mates? Smettila. Avete presente tipo i mates oppure insomma un altro gruppo di youtuber? Noi faremo il duo. Faremo il duo. Io e gangster. Abbiamo deciso oggi. Flicco. Vabbè io siamo un nuovo da youtuber. Vabbè ragazzi. Noi siamo arrivati. Nel chiuso bagno. Allora ragazzi. Volevo dire delle notizie. Allora. Questo è uno degli ultimi video che carico su YouTube con il telefono. perchè farò sempre i video con il telefono. Però fatti sul computer farò il canale YouTube. Perchè è più pratico del computer. Insomma. Puoi fare tipo le incolleture diverse. Mettere la webcam vicina. E mettere tipo uno sfondo dietro. Allora. Io preferisco così. Comunque abbiamo deciso oggi che faremo i duo. Sì ma c'è un piccolo problema. Che lui abita in Toscana. E lui è in Emilia Romagna. Noi siamo arrivati. Ragazzi. Ci vediamo. Tra poco. Mi raccomando fate un salto sul canale di gangster30. E ciao ragazzi. Ci vediamo dopo.